Musica Abbiamo sulla vicenda della festa, insomma della sospensione dell'attività della festa che all'inizio sembrava una fake news, cioè sembrava una notizia falsa per quanto incredibile ho già attivato l'ispezione dei nastri ieri la mia presenza in campagna è collegata sicuramente anche a questo però voglio anche dire che questa è una ragione che secondo me merita una particolare attenzione non per venire a tagliare nastri questo governo, io come ministro e tutto il ministero siamo a disposizione di questa ragione per cercare di migliorare i servizi ai cittadini ed è il motivo anche per cui sono venuta oggi in una struttura importante come questa dove sappiamo tutti che ci sono stati importanti problemi ed è una mia intenzione, l'ho già detto anche al comitato delle mamme l'ho detto al commissario, al direttore Giordano la mia intenzione è dare il massimo dell'impegno per cercare di aiutare a risolvere il problema che ovviamente non dipende solo da noi ma dipende dal grado di collaborazione di tutti gli attori in campo ed è un stesso tempo